Regione Toscana, il Consiglio regionale. La Regione Toscana ricorda anche quest'anno le vittime delle foibe, l'esodo degli italiani dall'Istria, dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, ma soprattutto la storia complessa di un confine difficile senza la cui conoscenza non è possibile comprendere quello che poi è successo. La storia delle foibe è la storia degli italiani che furono scacciati dalle loro terre, dagli uomini agli ordini del maresciallo Tito. I più fortunati furono scacciati, i meno trovarono una orribile morte nelle foibe, pozzi o caverne naturali tipiche del territorio estriano. Ma io ritengo che il 10 di febbraio abbia sempre un grande significato nel ricordo, nel ricordo di tanti italiani che solamente perché erano italiani furono coinvolti in quello che furono campagne di distruzione di massa, che hanno toccato i nostri connazionali. Io vedere con il titolo della nave, Toscana, dal porto di Pola, quella Pola che il nostro concittadino Dante Alighieri 700 anni fa definiva un po' il limite dell'Italia, nella Divina Commedia viene citata in questa veste. Ecco, dal porto di Pola, vedere il traghetto, piroscafo, Toscana, che carico di persone che devono lasciare la propria terra, i loro sentimenti, i luoghi dove erano radicati, mi strugge nel sentimento di solitarietà, di vicinanza e di ricordo dell'ingiusta, assurda, drammatica fine che molti di loro fecero perché furono battati in quelle foibe. Non deve più accadere. Ma forse più che dire alcune cose bisognerebbe forse precisare qualche cosa, perché questa faccenda della giornata della memoria e poi della giornata del ricordo è partita, e vi ricorderete tutte le polemiche, anche quando cominciò le idee del Parlamento al riguardo, eccetera, è partita un po' come una sorta di derby. E molti italiani l'hanno intesa in questo modo, è tragico, è irritante, può fare anche ridere. Però è vero che gran parte degli italiani intende la giornata della memoria come una cosa, questione ebraica e, se si vuole, questione razziale a parte, come una cosa, come dire, un po' più di sinistra e la giornata del ricordo come una cosa, come dire, un po' più di destra. Ora il problema è che, evidentemente, la storia non è un derby. La memoria e il ricordo sono altre due cose. Non a caso, la memoria era già occupata dalla Shoah, chi ha pensato che bisognasse parlare anche delle foibe ha parlato di ricordo. Ora io non lo so se ha fatto apposta, ma l'operazione fatta è molto sottile, per cui penso sia arrivata per caso, perché non credo che l'abbiano fatto appositamente, però è una bella coincidenza. La memoria, come sapete, viene da mens, quindi evidentemente c'è un elemento di razionalità nel richiamare qualcosa del passato. Ricordo, come sapete, viene d'accordo, in latino o di cuore, quindi c'è un elemento di maggiore affezione. Ora la testa e il cuore non sono in contrapposizione, anzi. Ma oggi non è il tempo delle polemiche, oggi è la giornata del ricordo. Mi dispiace che le colleghe del Movimento 5 Stelle non parteciperanno. La scelta delle personalità, di chi oggi interviene, è stata condivisa in conferenza di programmazioni e lavori, dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo il professor Cardini, ringrazio davvero per la disponibilità, è il tempo di attualizzare la memoria. In un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare, è un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Ho ascoltato poco fa le parole del professor Cardini, è quel modello di attualizzare quello che è successo perché non accada mai più. Quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. Sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. 17 anni fa un grande toscano, di cui abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azzelio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come dei morti del nostro paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo. Ed è importante che avvenga anche iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua avvicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo e di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica. Per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'Aula. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità. Comunità, ecco, diciamo, Dalmat e Giuliani sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche, quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate. In questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale, Matteo Salvini, di revocare l'onoreficenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concesso dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito, che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi, ecco, condivido. Cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. La valutazione è che è stato un momento importante, come ogni anno, quando si affrontano questi temi. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio peso, un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista. Evidentemente, siccome nel suo svolgere la professione giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo. Ma gli invito in futuro a non confondere i due piani. Presentata dal consigliere Cristina Giacchi del Partito Democratico, una mozione per stimolare Consiglio regionale e Giunta in tema di cultura. In particolare si avanzano proposte per la riapertura di musei e centri culturali e per trovare dei sistemi di agevolazione fiscale per i cittadini che fanno acquisti in cultura, come ad esempio acquisto di biglietti di cinema, teatro o altri eventi, proprio per stimolare, tra virgolette, un consumo di cultura e per cercare di dare un sostegno e un aiuto a tutti gli operatori e i musei che si occupano di questo tema. Sì, con la mozione 80 che ho depositato e che verrà discussa nelle prossime sedute del Consiglio, ho proposto di rendere detraibili fiscalmente i consumi culturali, le spese per i biglietti del cinema, per il teatro, per i musei, perché questo fornirebbe un aiuto strutturale a un comparto e darebbe anche un messaggio di considerare essenziale. Io ho parlato di una specie di medicina per l'anima, no? Così come i farmaci sono detraibili perché sono spese necessarie per vivere e anche i consumi culturali sono in un certo senso necessari per vivere bene, per affrontare anche i momenti drammatici come questi. Renderli detraibili è un modo per aiutare il settore, aiutare il comparto e anche per mandare un messaggio alla cittadinanza. A questo provvedimento abbiamo associato anche la proposta di favorire le riaperture dei musei anche durante i fine settimana. Perché ci sembra che possano essere sicuri come un grande magazzino, non si capisce perché si possa andare alla Rinascente di sabato e di domenica e non si possa andare a vedere un bel museo quando le condizioni di sicurezza possono essere garantite allo stesso modo. E allo stesso tempo di prevedere, anche ascoltando la protesta e il grido di dolore che viene dagli operatori, immaginare che nelle zone dove c'è meno pressione del contagio e della pandemia si possa cominciare a pensare alla riapertura dei teatri e dei cinema e a un'offerta culturale che consente ai cittadini di passare qualche ora senza sembrarsi necessariamente per strada. Il governatore della Toscana Gianni, in vista del probabile cambio di colore della regione, indica la sua preferenza verso una revisione dei parametri che siano impiegati dal Comitato Tecnico Scientifico per determinare ogni settimana i colori delle regioni italiane. Nel suo intervento durante la seduta del Consiglio regionale chiede a gran voce anche che sia priorità assoluta del prossimo governo l'acquisto di massicce dosi di vaccino per poter arrivare a immunizzare la Toscana entro il prossimo settembre. Qualcuno dirà cambiamo gli elementi con cui si commisurano i colori e io sono fra coloro che ritene che effettivamente qualcosa andrebbe cambiato non perché sia sbagliato il sistema. Io ritengo che il sistema sia in realtà un sistema di buonsenso e giusto però darei più peso ai dati reali cioè quanti sono i morti, quanti sono i contagiati quanti sono i presenti in struttura con la patologia Covid quanti sono coloro che sono sintomatici quanti sono coloro che stanno in terapia intensiva ecco darei più valore a questi dati oggettivi cosicché il passaggio di livello o meno è recepito dal cittadino rispetto che affidarsi ai calcoli algebrici e sono convinto che il prossimo governo la vera sfida e è in qualche modo con tutta l'umiltà del caso e tutto il rispetto che ho verso il Presidente del Consiglio incaricato io intenderei la battaglia nel farsi parte per contratti che portano il più possibile vaccini noi nei vaccini dipendiamo da quello che è la contrattazione che viene fatta a livello nazionale con le varie multinazionali e la contrattazione oggi ha portato a far sì che in Toscana che è proporzionale ad altre regioni abbiamo somministrato vaccini a circa 170.000 dosi 170.000 dosi ma noi dobbiamo riuscire a arrivare a creare una certa immunità di gregge entro il prossimo mese di settembre perché ora avremo ancora due o tre mesi da soffrire ma poi avremo la bella stagione e sappiamo che con il caldo il virus in qualche modo allenta la pressione per arrivare ad allora sei mesi noi quanti vaccini dobbiamo fare per arrivare a creare l'immunità di gregge voi fate il calcolo la Toscana sono 3.700.000 abitanti l'immunità di gregge può essere identificata in 2.500.000 di persone vaccinate 2.500.000 devono avere due dosi quindi 5.000.000 di vaccini ecco per avere a settembre 5.000.000 di vaccini somministrati e oggi ne abbiamo fatti 170.000 ecco la strada è lunga quindi io spero che il nuovo governo provveda a acquistarne molti di più del ritmo a cui abbiamo visto gli acquisti ora Regione Toscana il consiglio regionale